Il titolo originale dell'intervento deve essere la storia raccontata dai vinti, che secondo l'autolettura è il tentativo del neofascismo italiano di porsi ideologicamente forse dalla parte dei vinti e quindi assumere automaticamente una posizione rilevante da cui narrare la storia. Se appunto adesso il rapporto si è ribaltato, cioè le destre avanzano in maniera forte, non solo in Italia ma in tutto il mondo, secondo te nei prossimi vent'anni ci sarà un rischio della parte della sinistra, soprattutto italiana, di un tentativo di narrare la storia dalla parte dei vinti? La cosa che dici tu è veramente interessante sul vittimismo della sinistra. A me interessa sempre tantissimo come gli storici del futuro racconteranno il tempo presente, per cui l'idea che evidentemente in questo momento siamo in pieno della storia dei vinti almeno sul discorso A del controllo del presente, del giovane culturale come si diceva e B anche del racconto del passato. È chiaro che dopo domani qualcuno farà i conti con questa storia qua e dirà a parte che lo stiamo dicendo anche adesso, cioè hanno vinto loro. Questo paradigma del vittimismo rispetto a chi scrive la storia, vincitori, poi questo rigurgito dei vinti che si riappropriano nella storia, questa dualità vinti vincitori è funzionale ancora alla comprensione della storia, perché è imperante, è dilagante questa assurzione della vittima per giustificare e legittimare se stessi. Che ne dici? Userò due categorie dove c'è il testo. L'intimismo è feroce, questo è il grande dinomio dell'estrema destra da quando esiste. E poi girano fuori i denti aguzzi sui decoli fondamentalmente. Io credo che quest'estrema destra sia un'unifestazione peggiore della cultura politica che si può avere oggi, chiaramente non è fascismo con tutti i profissi del caso, sì. Il fatto che ci sia un legame con il capitalismo è evidente, come tutte le forze politiche attuali, quasi tutte le forze politiche attuali, tranne le forze in Sud America, dove c'è un bel contromovimento. Una delle ragioni per cui c'è questo fascino per il fascismo storico è che è passato troppo tempo. La gente dimentica, la gente si fa... Perché parlare di passato quando c'è il futuro? Perché comunque sul passato si modella il futuro e dunque tutte queste nostalgie per un passato dittatoriale sono plasmate su una visione distorta di quel passato lì. Tu hai una saggia del passato totalmente artefatta su un passato inventato che è una proiezione sul futuro che forse tutto il senso del mio lavoro è di beccare i galli di buona fede che magari è male informata comunque va un po' riportata ai dati di realtà e che per cui può avere a quel punto una visione più corrispondente alla realtà del passato e a quel punto farsi le sue proiezioni sul futuro. Viceversa c'hai tutto un mondo molto consapevole delle nostalgie che ha e delle proiezioni che ha, nostalgie fasciste, proiezioni orbane eccetera eccetera, che sono amici culturalmente, politicamente e che devi andare a smascherare nelle loro contraddizioni, nelle loro omissioni soprattutto, nelle loro distorsioni, mistificazioni. Io penso che il grande tema, insisto da 4-5 anni su questo tema qua, sia recuperare quella cultura democratica liberale, conservatrice che esiste, che è genuinamente democratica, che non si sente come diciamo chi è di sinistra in Italia non si sente rappresentato da ormai tanti anni almeno, da nessuno. C'è tutta anche una parte, diciamo pure di destra liberale democratica, che non ha un interlocutore politico serio. Io spero che prima o poi loro si rendano conto che o stanno su un versante genuinamente democratico, oppure l'Italia è persa. Il libro di El Cetemail Curran, che in Italia è uscito con Bollati e Burindieri, come perdere un paese in sette mosse, il cui titolo originale è How to lose a country, come si perde un paese, ti racconta la deriva della Turchia ed è veramente interessante perché tu vedi come uno dopo l'altro tutti i pezzi che dovrebbero tenere una cultura democratica, magari acerba, magari un po' instabile, mollano. A quel punto lasci il campo libero, alla persecuzione dei giornalisti, del dissenso in generale, entri in una dittatura naturalmente come l'Ungheria, come la Polonia, naturalmente come la Russia, senza neanche avere bisogno di un corpo di stati, tu occupi tutti i gangli del potere, a quel punto puoi anche andare alle elezioni regolarmente, ma ormai sono delle formalità che certificano lo Stato in essere. Io paradossalmente credo che, certo che servirebbe, lo dico da persona in sinistra, servirebbe una vera sinistra, ma non lo so neanche come si ricostruisce, non è il mio compito. Servirebbe anche, diciamo, un'area centrista, agitativamente democratica, che è quello che veramente mi adapta. Siamo partiti, non so cosa rimarrà nel video, ma siamo partiti dal ruolo di grandi aree culturali come può essere il Corriere della Sera, ma anche la Repubblica, però soprattutto il Corriere della Sera, dalla loro complicità in questa deriva, e sogno un moto d'orgoglio proprio di quella parte lì. Perché appunto, io su questa cosa insisto tanto in questi anni, la resistenza italiana è stata un fenomeno unico, lì che la storia ci serve, unitario, che arriva alla formazione formale di un esercito di combattenti che comprende tutte le forze, scusi, anarchici nel CLN, proprio perché alla fine non è stato facile, ma le forze appunto moderate si sono convinte che il fascismo si combatteva con le armi in quel contesto di guerra. Usiamo il concetto di armi in termini metaforici, però se loro non si convincono che serve questa scossa di orgoglio, però per me siamo già in Ungheria. Però ti devo fare una domanda, chi sono costoro? Cioè, dove stanno dentro? Il cruciale. No, perché socialmente chi sono? Cosa fanno nella vita che posto? Sono classe dirigente? Sono classe dirigente? No, sono ceto medio. Cioè, dovete trovare un politologo per andare avanti con il senso. No, non te lo so dire. Allora, in una democrazia occidentale oggi tu hai circa il 50% da stenzione, 40-50% da stenzione, di gente che non va a votare, proprio non ci va. E lì si sa che probabilmente in gran parte sarebbe di sinistra se ci fosse una sinistra, eccetera, queste cose le sappiamo. Per cui tu te la giochi sul 50-60% degli effettivi votanti di questi. Lo sappiamo che un milione va al contatto di italiani, vota fascista da sempre. Cioè, nel senso, quando vota liberamente vota fascista. E abbiamo questo cancro, c'erano tutti. E poi c'è tutti i vari alti segmenti, di cui una parte grossa è un'opinione pubblica, diciamo, moderata, che non riesce a essere democratica. Non riesce. Perché non ha neanche le alternative. Se tu avessi qualcuno, cioè, appunto, veramente un riferimento democratico, ma anche di destra. Il PD, in teoria, è veramente il grande partito di centro-destra italiano. Ma lo penso sul senso. No, no, no. Io lo penso davvero. Cioè, io lo penso. Noi ce l'abbiamo il grande partito di centro-destra in Italia, che è il PD. Dovrebbe fare pace con se stesso e dire, noi siamo il grande partito conservatore, siamo i repubblicani italiani. Lasciamo quello spazio alla nostra sinistra e qualcuno lo vada a prendere. E si aprebbe tutta un'altra partita. Però secondo me il fascismo è stato sconfitto perché c'erano dentro tutti. Eh sì, ma c'erano delle forze costituite che hanno resistito come entità organizzate dentro alla guerra civile, dentro al fascismo. Ed è stata la storia dei quaranta anni. Una rossa. C'erano dentro tutti con un'idea comunque. Eh, con un'idea, con un'idea. C'erano qualche modo un'idea ce l'aveva che non era solo siamo contro i fascisti ma abbiamo un'idea di paese. C'erano nelle sue diversità. C'erano nelle sue diversità aveva un'idea di paese in cui ci stava a togliarti Pertini e De Gasperi in qualche modo dentro. Ma non solo ma c'era il Partito Liberale. C'era i monarchici. C'era i repubblicani. Grilli parlanti? No, però di fatto culture forti con una storia lunga. Banalizzando e generalizzando sono in realtà pochi quelli che hanno veramente a cuore. A cuore cosa? Quello che c'è domani.